La strategia del ferro sarà fondamentale per la crescita del porto e quanto ha detto il ministro per l'infrastruttura e i trasporti Paola De Micheli in visita al porto di Gioia Tauro. La rappresentante del governo ha illustrato quello che è l'impegno del di Castero in particolar modo per il sud e per la Calabria, la differenza fra nord e sud a livello infrastrutturale e per la De Micheli e del resto una delle ragioni della minore competitività. Noi abbiamo accelerato molto gli investimenti al sud in generale, tenete conto che appena ritornerà dalla corte dei conti l'aggiornamento del contratto di programma da 15 miliardi e 400 milioni di RFI, più della metà di quelle risorse sono concentrate nelle regioni del sud, proprio perché soprattutto con il ferro noi possiamo superare il gap infrastrutturale che ha caratterizzato in questi anni la differenza tra nord e sud e anche un pezzo delle ragioni della minore competitività. In particolar modo la nostra strategia sul ferro riguarda esattamente il collegamento dell'ultimo miglio sui porti e in questo caso per Gioia Tauro diventa strategico per il presente ma soprattutto per il futuro. Oggi che c'è un piano degli investimenti così importante da oltre 100 milioni, noi abbiamo l'esigenza di chiudere rapidamente soprattutto questa vicenda del ferro, oltre poi ovviamente ad investire sul resto della Calabria non solo sul ferro ma anche soprattutto sul tema della Statale 106. Per quel che riguarda il resto della linea ferroviaria calabrese, noi abbiamo un piano che laddove c'è la linea unica dobbiamo andare a raddoppio e soprattutto dobbiamo rafforzare sul fronte dei sistemi di sicurezza per far viaggiare i treni che viaggiano mediamente più veloci di quelli attuali. Questo è un piano che arriva tra il 2026 e il 2027 in termini realizzativi, già finanziato che ovviamente stiamo appaltando a stralci. Per quel che riguarda invece la parte delle infrastrutture stradali, come ho già annunciato, ovviamente non in Calabria perché da Ministra è la prima volta che vengo, ma l'ho fatto in altre occasioni, a marzo aprirà finalmente il terzo megalotto della 106 Ionica per un valore di oltre un miliardo di euro e io credo che l'apertura di quel cantiere per me, per noi, per il governo sarà il segnale più potente che potremo dare alla Calabria del grande investimento che vogliamo fare qui.